L'acido ialuronico ed il suo utilizzo sui tendini. Ospite in studio il professor Italo Capparucci, medico ortopedico all'Università di Urbino. Benvenuti alla salute gentili telespettatori e telespettatrici. Siamo nuovamente in compagnia dell'amico professor Italo Capparucci dell'Università di Urbino che ci è venuto a trovare nuovamente per continuare un ragionamento sull'utilizzo dell'acido ialuronico. Benvenuto Italo, grazie per aver accettato ancora una volta il nostro invito. Siamo qui appunto perché nella prima di questo ciclo di trasmissioni abbiamo imparato a conoscere grazie a te l'acido ialuronico, le varie differenze, i vari pesi molecolari, la viscoinduzione, la viscosupplementazione. Nella puntata successiva abbiamo visto con un video realizzato da te le varie tecniche infiltrative, le principali ginocchio, spalle e anca, ma abbiamo rapidamente visto scorrere anche le piccole articolazioni che tu fai nelle varie patologie artrosiche e deformanti. Oggi però con te vorrei affrontare un tema che per certi versi si può definire ancora sperimentale in via di chiarimento. Molto spesso un soggetto fa dell'attività sportiva, va a correre, va in bicicletta, gioca a tennis, gioca a golf e anziché avere un vero e proprio insulto articolare, l'insulto interessa magari le inserzioni tendine, quelle che tu ci dicevi spesso vengono comunque punte nell'infiltrazione articolare o addirittura un ventre muscolare che si strappa per una lesione di vario tipo. Ecco, io vorrei cominciare a conoscere con te l'acido ialuronico da impiegarsi nelle patologie tendine. Io ringrazio come sempre per l'ospitalità squisieta. Per quanto riguarda questo argomento, che è quello che ci sta molto a cuore come Dipartimento Biomolecolare di Ricerca dell'Università, bisogna dire che è considerato da molti, dopo che i giapponesi ci hanno messo in mano per la prima volta qualche anno fa, perché è un argomento che riguarda la terapia vera sia come ricerca sia come pratica clinica da meno di dieci anni. Quindi parliamo di una realtà terapeutica molto molto recente rispetto a quella tradizionale delle articolazioni. Dunque l'osservazione nasce da una cosa abbastanza semplice, anche quella che hai detto tu, e cioè è accidentale il fatto che magari il medico per cercare di compensare alcuni tipi di patologie articolari cercava con un agido ialuronico lineare di quelli basici, quindi sotto 1.2 milione di chilo d'altoon, di iniettare anche le zone di contorno articolari per dare un minimo di ristoro alla parte capsula regamentosa, ottenendo risultati che erano di pregio anche se empirici. Questo fatto qui è stato un dato di fatto clinico, ma assolutamente non rilevante ai fini dello studio scientifico. Invece è stato molto rilevante ai fini dello studio scientifico il fatto che si sapesse già da un pezzo che quando c'è un'articolazione rigida, cioè che ha perso una capacità di articolazione completa, come quelle che misuri tu con le tue metodiche, evidentemente la rigidità non viene solo da dentro l'articolazione, ma viene anche da fuori, e cioè tutto quello che è attrito cartilaginio impedisce un movimento, ma anche la fibrosi, la retrazione capsulare, legamentosa, quindi l'irrigidimento delle strutture che involgono e soprattutto stabilizzano come strutture capsulare, legamentose dell'articolazione, ha la sua enorme importanza sulla rigidità. Perciò orientandosi verso una forma di ricerca che fosse di presa diretta sulla terapia, si è valutata l'ipotesi di cominciare a guardare quanto fosse rigida un'articolazione per motivi tendini e capsulari invece che solo per motivi cartilaginio. da lì il passo è stato breve nell'osservare con una progressione scientifica che ha convolto anche noi, che l'acido iononico fisiologico viene prodotto dal tendine quando è malato. Una tendinite, un fatto infiammatorio, una tendinosi, un fatto degenerativo o addirittura sono una prelesione, quindi una lesione parziale di un tendine, vedono il tendine che nell'arco di 15 o 20 giorni produce il suo acido iononico nel tentativo di autoripararsi. Questo acido iononico cambia di peso molecolare quasi ogni giorno, si va da frazioni iniziali, precocissime, bassissime, quindi della consistenza dell'acqua, 2 miliardi d'alto, fino a un milione. A questo punto si è detto, beh, facciamo un bioassemblato di almeno 5 frazioni differenti fra di loro, quindi dalla più leggera alla più pesante, tutto nell'ambito induttivo, quindi tutto sotto al famoso 1 milione e 2 di chilo d'alto, che è quello che distingue l'acido iononico. Si è cercato di mimare un po' la natura. Esatto, ci siamo sulla scorta di quello che fa la natura, ci siamo infilati e abbiamo detto proviamo. Questa è una metodica che non ha niente a che vedere con tutta la terapia di cui abbiamo parlato fino adesso, e cioè tutto quello che noi abbiamo chiamato biorivolumetria, perché qui non si parla di acido iononico cross-linkato, non ci sono leganti chimici. Questo è semplicemente un insieme nella stessa silinga di 5 acidi iononici di peso molecolare diverso, simili a quelli di attende, completamente indipendenti fra di loro. Una domanda, non ha qualcosa a che vedere con l'acido iononico nell'estetica questo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi i principi sono simili? Sì, sono simili anche perché c'è un fatto che l'estetica utilizza bioassemblati come questo, quindi non necessariamente cross-linkati, non necessariamente sostanze legate chimicamente, ma anche libere, come questo qua, e li utilizza su una tolleranza dissodale fatta di cute, sottocute, fascia e muscolo, dove in un centimetro e mezzo nel viso, tu percuri tutta la lunghezza che invece nelle nostre patologie è molto più profonda, quindi è molto più tollerante come spessore. Ci siamo ispirati a questo, ci sono dei prodotti che sono molto parallelabili da questo punto di vista qui, si sono ottenuti sperimentalmente e adesso nella pratica clinica più allargata, dei risultati di pregio per quanto riguarda sia la riparazione in senso stretto, sia soprattutto la rielasticizzazione, perché nel tendine non bisogna dimenticare che la capacità rielasticizzativa è strettamente connessa alla rivascolarizzazione. Se c'è una metodica capace di produrre nuovi vassellini circolatori, stai facendo rielasticizzazione. Che è un po' il principio della laser terapia ad alta densità, che è un rivascolarizzante del microcircolo e quindi rimuove i cataboliti dei traumi. Assolutamente, assolutamente. Prima di vedere, abbiamo già visto rapidamente scorrere con la regia, le immagini di alcune tecniche che tu ci proponi, che sono quelle corrette per l'infiltrazione dei tendini. Io volevo con te però parlare, a proposito di tendini e muscoli, di quelli che sono le principali alterazioni cellulari che tu vai a studiare. C'è una bella tabellina che ci hai portato e di conseguenza, quindi questi famosi 5 pesi molecolari che voi state studiando come Dipartimento Mio Molecolare a Urbino. Esatto. Questa somministrazione di pesi molecolari differenziati fra di loro, ma sulla scorta di quello che si misura in un tendine malato che autoproduce un acido dioronico nel tentativo riparativo, è quello che ha ispirato la concezione, la confezione di questo mezzo terapeutico, che ripeto, non c'ha nulla a che vedere con la bioregolometria, non c'ha nulla a che vedere con il crosslink fatto con varie sostanze. Questo è un assemblato completamente libero, quindi molto simile fisiologicamente a quello che fa il tendine da solo. Va da 2000 kg d'alton fino a un milione, quindi nelle quote piuttosto leggere dell'acido dioronico, e produce di fatto una bioinduzione, cioè c'ha un effetto provocatorio, perché nelle tre fasi che noi conosciamo della lesione tenomuscolare, riesce a modulare i fattori di crescita o i fattori di controllo, in maniera tale di rendere il più omogeneo possibile questa cicatrizzazione. Quindi c'è una fase, leggevo, primaria, una fase secondaria, una primaria tardiva, una secondaria tardiva, e con riconoscimento di varie sostanze che vengono trovate nel tessuto. Esatto, perché anche questo tipo di sperimentazione corrisponde, dà come parametri di riferimento, una chimica precisa, non è che si agisca come viene. Misurare le metalloproteasi tendine, come misurare le metalloproteasi cartilagine per quanto riguarda l'altra terapia fatta sulle articolazioni, misurare le interleuchine specifiche, insieme alle interleuchine specifiche per le cartilagine, significa avere un'idea precisa di quello che sta succedendo. Perché se io produco una cicatrizzazione anelastica, me ne accorgo dal fatto che le metalloproteasi tendine o le interleuchine tendine non si muovono, rimangono patologiche come sono. E questo cambia molto, anche dal punto di vista della cosiddetta della riatletizzazione, della rielasticizzazione. Cioè se tu non hai fatto questa modificazione, rischi che volendo forzare le tecniche di allungamento, lo rompi poi quel tendine, pensando di aver fatto... Assolutamente, perché ripeto, quello che tu vedi con la risonanza magnetica, che è comunque un'immagine statica, quello che tu vedi con l'elastosonografia, che è un'immagine dinamica, diagnostica anche abbastanza operatore-dipendente, e quindi non per forza con una parametrazione del tutto affidabile. Vedi comunque un tessuto, ma la capacità elastica di quel tessuto non sei in grado di misurarla, né tanto meno se poter dire se quella cicatrice si muove insieme a tutto il resto. Certo, certo. Le metalloproteasi che si abbassano, le interleuchine che scompaiono, stanno a significare che l'acidio di aluronico ha avuto un effetto di ricostituzione fisiologica, quindi quel tendine assomiglia a un tendine sano. Esatto, anziché avere la classica cicatrice di tessuto connettivo anelastico, ecco. Sì, in tutta onestà va detto che la capacità riparativa nella giunzione muscolo-tendinea è di un tipo, quella nel corpo tendineo è di un altro, e quella al passaggio fra tendine e osso, che sono le tre zone caratteristiche, è piuttosto differente anche quella. Si ottengono ottimi risultati in tutte e tre, ma la tecnica, soprattutto la tempistica, infettativa cambia di molto. Perché se in una lesione di carattere muscolo-tendineo, quindi in zona di passaggio fra muscolo e tendine, ce l'hai obiettivata con precisione, devi iniettare molto precocemente e anche molto frequentemente. Nelle nostre sperimentazioni non siamo mai andati oltre alle tre somministrazioni. Ah, le tre. C'è uno standard, un protocollo. Il bioassemblato ha il grosso vantaggio di essere una sostanza molto poco densa, quindi anche iniettata dal medico non esperto nelle vicinanze del tendine, c'è la capacità di perfondere, quindi di penetrare la guaina tendine e entrare dentro lo stesso. Noi consigliamo comunque, proprio perché le regioni sono diverse, e quindi la diagnosi non è semplicissima anche dal punto di vista strumentale. Ecco, un'iniezione di questa natura qui, a tempo zero, cioè appena fatta la diagnosi, poi dopo 15 e poi dopo 30 giorni. I risultati che abbiamo osservato sono a 90-120 giorni e sono molto fuggiti. Le teste metatarsali, infine. Ecco, queste sono le teste metatarsali trattate, quelle ombre bianche che vedete in cima, i coni neri, sono le zone, ecco, quella zona che è stata trattata e che è tornata omogenea, questo è il controllo. Sì, sì, sì. Ecco, anche qui tu ti avvali, oltre che dello studio delle metalloproteasi, di queste modificazioni, di queste sostanze infiammatorie che trovi, sempre una tecnica anche di visualizzazione ecografica. Assolutamente. Non tanto per il punto da iniettare, ma per il controllo della terapia. Assolutamente sì, assolutamente, quello è molto importante. Quando tu parli di ricondizionamento tendineo, che cosa intendi? Ecco, ricondizionamento tendineo significa che noi, tramite questo assemblato, questa bioinduzione, fatta a più frammenti di acido rialuronico libero, abbiamo potuto verificare che somministrato con la regolarità che abbiamo detto prima, l'acido rialuronico è in grado di modulare l'azione dei fattori di controllo della cicatrizazione e della rialasticizzazione. e cioè, in altre parole, di dare una cicatrice che sia la più fisiologica, la più biologica possibile, ma soprattutto la più omogenea possibile, come potete vedere anche da alcune immagini che vedremo. Ma questo è il gomito, il famoso gomito del tennista. Esatto, dolore tendineo fastidiosissimo, extra-articolare, è una patologia dell'interfaccia fra il tendine degli epicondiloidei e il condilo omerale esterno dove si inserisce, che normalmente risente del bioassemblato anche per una somministrazione unica. Ah, soprattutto è una delle patologie molto fastidiose, anche molto frequenti. Ah, anche il bicipite del tendineo? Anche il tendine del bicipite, che è un'altra di quelle patologie molto frequenti. Bicipite bracchiare, chiaramente. Bicipite bracchiare, sì, sì. Ha sempre il puntino rosso per far vedere. Diciamo che la iniezione tecnica dei tendini diventa più semplice per certi aspetti, perché ecco... L'ago è anche più piccolino. L'ago è molto più piccolino, è meno traumatica e soprattutto molto spesso è molto orientativa la condizione clinico-sintomatologica perché il paziente ti orienta a lui in un modo molto preciso sulla zona del dolore. Quindi il percorso del tendineo, ecco questa è l'iniezione del tendineo del suo aspirato. in ecografia diretta. Sì. Questo invece è l'iniezione dei muscoli estralotatori della spalla. Ecco, l'ago entra perpendicolare. Si usano aghi molto piccoli, 24-25 gosce, 2-3 centimetri di lunghezza, quindi aghi che non riescono a far danno neanche se uno vuole perché... E con quale tendenza ripeti queste tre infiltrazioni? Una la più vicina possibile alla lesione, una dopo 15 giorni, una dopo 30. Perfetto. E i controlli ecografici vengono fatti con quale distanza? Allora, in queste tre occasioni sicuramente, poi vengono fatti a 60 e a 90 giorni. Ecco, però parlando di tendini e vorrei trascinarti a parlare di muscoli anche, che è un'altra frontiera che il vostro dipartimento biomolecolare sta studiando a livello sperimentale, però tuttavia, ecco, noi dobbiamo considerare anche, tu ci hai fornito delle immagini, i vasi infiammatorie, che si possono avere a seguito di una lesione muscolare, primo, secondo, terzo grado. Sì, sì, e quello corrisponde non tanto all'entità del trauma, perché ecco, forse quello che noi non abbiamo chiaro in certe condizioni è che la componente infiammatoria di una lesione, di una struttura elastica, quindi muscolo, tendine e se vogliamo anche legamento, non è strettamente connessa all'entità del danno, ma più che altro alla zona anatomica, perché più il muscolo è danneggiato in una zona centrale, cioè molto lontano dai tendini, sia prossimo al ventre muscolare, la componente infiammatoria è preponderante e va assolutamente trattata perché può incidere molto sulla capacità di rielasticizzazione postum. Tu hai messo qui queste immagini riferite alle varie fasi infiammatoria, rimodellativa, ecco, parlando naturalmente anche di sostanze e della tenascina e vi dicendo, ecco, ma i controlli sull'efficacia eventualmente anche su una, quello che una volta si chiamava lo strappo muscolare o per meglio dire una distrazione di secondo grado, quella che normalmente un mesetto te lo porta via di pausa dall'attività, ecco, la tua esperienza ci dice che grazie a questo tipo di intervento terapeutico non solo migliora la qualità della riparazione, quello che ci hai spiegato sulla qualità della elasticità tendinea, ma i tempi si accorciano? I tempi si accorciano. O le ricadute si diminuiscono? Ecco, soprattutto c'è un effetto preventivo che è molto marcato nella nostra esperienza, l'ultimo lavoro che ha prodotto questo dipartimento che è di prossimissima pubblicazione in una rivista internazionale censita in un modo importante, dimostra proprio questo per quanto mi riguarda e quello che ci ha ispirato in un modo preciso lo racconto perché è molto interessante dal punto di vista anche della pratica clinica di ogni giorno. Dunque, noi sappiamo che in Italia, che non è sicuramente una nazione enorme dimensionalmente, quindi figuriamoci in altre, circa 50.000 persone l'anno si rompono il legamento crociato anteriore e quindi è una bella cittadina tutta quanta con il crociato rotto. Tutto quello che sappiamo fare noi ortopedici è prendere un tendine e metterlo dentro il ginocchio al posto di un legamento. Adesso noi sappiamo che tendine e legamenti sono abbastanza parenti biologicamente fra di loro ma non propriamente sovrapponibili. Quando con varie tecniche tu fai questa cosa per restituire stabilità da un ginocchio di fatto compie una violenza biologica cioè prendi una struttura che è stata concepita da madre natura per essere extraarticolare e invece la scalaventi intraarticolare. Questo provoca inevitabilmente l'accensione reattiva di metalloproteasi, di interleuchine, di fosfatasi acide, cioè di sostanze che reagiscono e aggrediscono il trapiantato. Si chiama processo di ligamentizzazione che è patologico. Molto spesso capita che rioperando quel paziente o anche semplicemente osservando la risonanza magnetica tu trovi che il trapianto a distanza di 6 mesi e 1 anno è diventato esilino, piuttosto sofferente perché è stato di fatto digerito. Usare l'acido di aluronico in questi casi numerosi che abbiamo osservato a distanza di tempo ci ha permesso di verificare che pur avendo trapiantato un tendine al posto di un legamento quindi pur avendo chiesto un sacrificio enorme a questa struttura si è mantenuta ed è stata protetta moltissimo. E nella tua esperienza appunto questo tipo di terapia si fa sul legamento crociato anche eventualmente prima dell'intervento? Assolutamente sì. Sul neo legamento voglio dire? Sul neo legamento assolutamente sì anche perché l'acido di aluronico con la sua capacità appunto sulla patologia tendinica che ha risolve sebbene usato anche una serie di altre patologie per esempio la snapping syndrome quella che noi chiamiamo questa è un'immagine di un tendine a sinistra gonfio e infiammato che a destra dopo il trattamento a 60 giorni è praticamente guarito. La striatura grigia che poi vedete sulla destra sull'immagine di destra è quella della stosonografia normale di un tendine elastico ed invece nella parte di sinistra come vedete la foto era completamente nero quindi edematoso assolutamente anelastico ad alto rischio di rottura in quelle condizioni per l'altro. questo è a tempo zero una lesione del tendine d'achille si vede chiaramente in ecografia il pezzo rotto e l'interruzione della linea bianca di continuità una lesione di secondo grado trattata subito a tempo zero quindi il giorno della diagnosi e poi trattata a distanza di 30 giorni questa è l'ecografia del trentesimo giorno cominciano già a allinearsi esatto c'è già un'omogeneità il pezzo rotto si vede ancora e poi alla fine a 60 giorni c'è quel vuoto che si riempirà nell'acqua di un mese con gli ultimi controlli ma con una omogeneità che sia ripristinata ma si può dire che in un caso come questo quindi si scongiura l'intervento chirurgico? su una lesione di secondo grado se è ben trattata e tempestivamente trattata è probabile nella tua esperienza l'uso dell'acido ialuronico e di tecniche fisioterapiche quanto si possono aiutare? ha un razionale tecar, laser, ondedurto e acido ialuronico? assolutamente perché soprattutto con lo studio della tiacina e dell'astina si è visto che il tendine che si mobilizza si smemorizza ha difficoltà a riprendere la capacità elastica proprio perché la sua biologia cambia quindi l'associazione con le tecniche riabilitative è fondamentale l'associazione va fatta contemporaneamente è meglio fare prima le tre infiltrazioni tendine o muscolari e successivamente o anche durante i trattamenti infiltrativi a tuo giudizio si può usare la fisioterapia nei nostri protocolli abbiamo verificato che in linea di massima il risultato migliore si ottene se la fisioterapia è molto precoce cioè se sumentra fra la seconda e la terza iniezione quindi fra il quindicesimo e il trentesimo giorno del trattamento dal tempo zero in altre parole dopo 15 giorni che si è fatto male con te abbiamo cominciato ad approfondire un tema di grande importanza che è l'acido ialuronico che è molto più conosciuto forse per l'impiego nella medicina estetica che nella medicina sportiva però è vero anche che i campi di applicazione nell'ambito medico non estetico si stanno ampliando allora nella tua esperienza cosa ti aspetti in un prossimo futuro sia da un punto di vista biochimico cioè dobbiamo aspettarci altri tipi di acido ialuronico si sta lavorando per produrre altri pesi molecolari altre oppure quello che abbiamo oggi deve solo essere ampliato nelle sue indicazioni ecco ma senti io credo una cosa che il futuro è nell'acido ialuronico cross linkato perché la possibilità di assemblare più acidi ialuronici con la possibilità di farli liberare in tempi diversi usando dei leganti che siano meno rigidi perché l'acido ialuronico è una struttura estremamente elastica ma la capacità di legarla è ancora molto chimicamente limitata quello è il futuro quello è il futuro beh allora un futuro che dovremmo vedere assieme perché io sicuramente non potrò non rinvitarti alle nostre trasmissioni sei stato cortesissimo perché sei venuto lo diciamo chiaramente da Urbino non è proprio girato l'angolo e di questi tempi è anche stato un impegno perché non è non è semplice spostarsi di questi tempi di covid io voglio ringraziare il professor Italo Capparucci che è stato con noi per aiutarci a comprendere meglio che cos'è l'acido ialuronico la ricerca sull'acido ialuronico che cosa ci sta portando a conoscere i vari campi di applicazione e anche la dimostrazione pratica di come si infiltra un'articolazione si infiltra un tendine quindi direi campo molto interessante anche per i colleghi fisiatri reumatologi medici sportivi che volessero avvicinarsi a questa tecnica grazie ancora a voi gentili telespettatori e telespettatrici per aver seguito anche questa puntata di La Salute il nostro appuntamento è sempre il venerdì alle ore 20 su Rete 7 e a tutti quanti una buona serata grazie a tutti